Di vasche ne hanno fatte più di 720, nuotando in tre distinte corsie. L'obiettivo di Guinness Marathon Sildren Swim for Sildren, la manifestazione svoltasi alla piscina Scandone organizzata dalla società, eventualmente dall'associazione Accendiamo una stella for you, è stato ampiamente raggiunto. L'intento era quello di compiere al chiuso la distanza di 36 km, lo stesso percorso che i nuotatori compiranno nei prossimi giorni, cimettandosi nella Capri Napoli, ultima prova di Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere. Grande la partecipazione da parte dei giovani e dei meno giovani alla manifestazione andata in scena al quartiere di Fuorigrotta alla piscina Scandone. Più di 500 i ragazzi partecipanti, grazie anche all'adesione di diverse scuole napoletane.